buonasera buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar della fondazione lavoro per la persona vi prego di tenere spento il microfono così non avere rumori di sottofondo questo webinar ritorna un po alle alle origini dei nostri incontri lp lp il diminutivo della fondazione un format generato dalla finalità di intercettare un po i temi che con più forza attraversano il lavoro l'impresa e l'economia oggi parleremo di leadership e più in particolare della sua trasformazione proveremo a dialogare con i nostri ospiti che fra poco vi presenterò per chiederci di quale leadership c'è bisogno in questo tempo se c'è una o più dimensioni che prevalgano o che vorremmo fossero più presenti lo stimolo ci è stato fornito dalla pubblicazione di un lavoro di bianca straniero sergio e guido stratta rievoluzione il potere della lideci gentile che intanto saluto con affetto benvenuti prima poi di sentirvi e di ascoltarli benvenuti entrambi li ascolteremo appunto nella seconda parte del webinar avremo così anche l'opportunità di rivolgere loro qualche domanda usando la chat per essere efficienti ed efficaci vi prego di indirizzare le domande la domanda all'account che trovate nella chat domande in modo che ci possa essere un flusso ordinato delle stesse prima però di entrare nel tema consentitemi di dire qualche parola di spendere qualche parola sulla nostra realtà sulla fondazione lavoro per la persona a beneficio soprattutto di chi non ci conosce e credo che questa sera ci siano delle persone che ancora non ci conoscono allora lavoro per la persona una fondazione di partecipazione cioè una fondazione formata da un gruppo di persone imprese organizzazioni che hanno a cuore la promozione del lavoro siamo convinti infatti che il lavoro sia un bene irrinunciabile che sia un fondamento di democrazia e di civiltà e un mezzo per ricercare benessere materiale ma anche elevazione spirituale fonte certamente di realizzazione personale per questo il lavoro come ci piace dire come vedete nella slide è espressione della persona il lavoro insomma è una componente identitaria di ciascuno e poi con il lavoro un altro aspetto molto molto importante costruiamo legami legami sociali e costruiamo e generiamo anche beni relazionali miglioriamo il mondo che abitiamo prepariamo auspichiamo un futuro migliore più accogliente per le generazioni future per promuovere e valorizzare il lavoro così come lo sto declinando e soprattutto i suoi il suo e i suoi profondi significati usiamo diversi linguaggi ci rivolgiamo alle persone di tutte le età bambini e adolescenti giovani adulti e anziani il nostro impegno dove si dirige il nostro impegno si realizza nei campi della cultura dell'educazione e della ricerca nei quali cerchiamo sempre di declinare cos'è per noi il lavoro per la persona ogni epoca come sapete ci ha mostrato esperienze nelle quali il lavoro non è a servizio della persona quando cioè il lavoro si trasforma in schiavitù alienazione sfruttamento anche la cronaca di queste settimane come ricorderete ci hanno sbattuti in faccia fatti inaccettabili pratiche che annullano davvero l'umano nel lavoro così come la cronaca sempre di queste settimane ci ha raccontato le drammatiche conseguenze del lavoro asservito al profitto piuttosto che alla persona un lavoro che quindi produce sofferenza e anche morte allora non ci stancheremo mai di ricordare per questo che occorre coltivare l'umano nell'economia e nel lavoro il lavoro infatti ha bisogno di cura e prendiamocene quindi cura tutti insieme vi invito per chi avrà piacere di approfondire i contenuti le idee e come lavoriamo in fondazione lavoro per la persona andando a visitare il nostro sito www lavoro per la persona punto it bene allora vengo al tema di questa di questo pomeriggio anticipavo che discuteremo delle forme della leadership e del bisogno di una leadership gentile e dopo una riflessione introduttiva che adesso vi proporrò per entrare nel tema discuteremo con tre ospiti che ora eh vi presento sono con noi questa questo pomeriggio luca alici luca alici è un filosofo e collabora con la fondazione praticamente da quando da quando è nata ciao luca grazie per essere qui con noi e avremo poi e discuteremo con gaia con gaia corazza gaia è una imprenditrice è una coach e anche presidentessa dei partecipanti della fondazione lavoro per la persona quindi c'è anche un ruolo istituzionale dentro la fondazione benvenuta gaia e grazie anche a te per essere qua e infine ma come si dice certamente non per importanza rossella gangi rossella gangi è una manager eh è direttrice delle risorse umane di win3 e quindi rossella ci fa davvero piacere che tu stia qua eh con noi grazie grazie di cuore allora facciamo questa breve introduzione per entrare un po' nel tema prima di conversare tra di noi e poi per prima di ascoltare nella seconda parte proprio bianca e guido voglio iniziare questa breve introduzione prendendo spunto da un romanzo di andrea camilleri un romanzo che narra le vicende del commissario montalbano chi è che non conosce montalbano non so quanti hanno letto questo romanzo che è veramente bello ma vi voglio eh citare un dialogo che si svolge tra una bambina e il suo amichetto che aveva messo sull'orlo di un pozzo una ciotola una tazza una teiera una scatola di latta quadrata tutte colme d'acqua e le osservava attentamente allora la bambina è curiosa e chi non sarebbe stato curioso gli domanda cosa stesse facendo e lui per tutta risposta le chiede qual è la forma dell'acqua e la bambina scoppia a ridere e gli risponde ma l'acqua non ha forma piglia la forma che le viene data prendo spunto allora da qui per interrogarci sulla leadership e sulle forme come già dieci anni fa il professor domenico bodega annotava in un bel libro vuol dire che la leadership si esprime in maniera diversa attraversando la storia incarnandosi nella storia la leadership evoca necessariamente allora cambiamento qualche cosa che non è stabile è difficile piegarla dentro un qualche contenitore per rinchiuderla dentro una forma valida per sempre anche quest'epoca di transizione segnata dal cambiamento digitale soprattutto dalla rivoluzione 4.0 come la chiamiamo dalla pandemia e dal lavoro ibrido allora sta esprimendo il bisogno di una leadership capace di rispondere alle sue esigenze una leadership che possa interpretarne la domanda più profonda e adeguata rispondere alle emergenze organizzative che viviamo ci sono studiosi manager e ricercatori che pensano sia arrivato il momento di fare spazio alla leadership gentile ma andiamo con ordine prima di arrivare alla leadership gentile spendo qualche minuto allora per ricordare alcune delle etichette attraverso le quali negli ultimi anni abbiamo contrassegnato bisogni aspettative preferenze di leadership per farlo devo però ricordare solo per titoli naturalmente alcuni approcci classici alla leadership cominciando con il dire che non disponiamo di una definizione accettata da tutti come sappiamo ce ne sono in verità molte ciascuna enfatizza una prospettiva sottolineando alcune dimensioni allora dal punto di vista della prospettiva organizzative manageriale la definizione proposta da Tosi e Pilati in un manuale in un libro classico non so a quante edizioni si era arrivate e sul comportamento organizzativo credo che sia un buon punto di partenza secondo questi autori la leadership ha sempre a che fare con un processo di influenza e per far questo come scriveva Peter Drucker la leadership ha sempre a che fare con followers ecco allora la cultura social di oggi in cui tutti siamo di cui tutti siamo imbevuti ci dice che questo è diventato davvero la misura della leadership forse più oggettiva secondo questa cultura quella cioè che conta e pesa il numero dei followers che hanno che ciascuno di noi ha d'altro canto la letteratura ha anche posto in evidenza però un'altra caratteristica distintiva della leadership quella che si esprime attraverso la capacità di ispirare di dare una direzione di rendere disponibile una visione o come ha scritto qualcuno di indicare la cosa giusta ecco questa attitudine evidentemente è slegata dunque dal ruolo che si copre non deriva dal potere della posizione che si ricopre in una organizzazione non ha la sua fonte nella gerarchia descritta così la leadership evoca indubbiamente la leadership carismatica concettualizzata da max weber in un famoso scritto quello che vedete nella slide secondo il quale l'eroe carismatico non trae dunque la sua autorità da ordinamenti e istituzioni se traesse la sua forza dalla gerarchia diremmo oggi sarebbe un manager non saremmo più nel dominio della leadership ma in quello del management il management che è interessato notoriamente più all'efficienza al fare le cose in modo tecnicamente giusto alcuni pensano che siano cose ben distinte quindi la leadership e il management altri invece pensano che soprattutto in quest'epoca di grandi trasformazioni e cambiamenti siano due facce della stessa medaglia su una cosa però c'è convergenza la leadership è un'esigenza organizzativa ed è una delle forme più efficaci di controllo sociale perché nella società nella politica nell'impresa c'è bisogno che qualcuno si assuma la guida delle persone rivestendo ruoli di responsabilità ho detto che c'è convergenza ma non unanimità infatti vedete c'è anche qualcuno che mette in evidenza come questa sia l'epoca nella quale occorre sperimentare stiamo sperimentando da qualche anno secondo questi autori organizzazioni senza leader ha fatto molto discutere questa narrazione questo libro fondato appunto su ricerche su analisi di casi come il caso di wikipedia come il caso di ebay di altre imprese proprio per il fatto che non contano su particolate catene di comando e controllo ma su sistemi a rete sistemi a rete evocati un po' dalla stella marina che trovate appunto nella copertina la nostra esperienza poi testimonia che ci sono anche leadership buone ma anche leadership cattive introducendo quindi un'angolatura diversa ossia che quello della leadership non è un campo offshore per l'etica ma la leadership ha a che fare anche con l'etica le vicende economico e finanziarie degli ultimi ormai 15 anni ce lo hanno raccontato ce lo stanno raccontando anche in questi mesi che le leadership possono essere anche distruttive perché possono avvelenare la società le organizzazioni le persone sono leadership cattive quelle che non rispettano le persone l'ambiente e il futuro e per questo che bisogna cambiare pratiche bisogna cambiare pratiche di business e quindi bisogna cambiare anche modelli di business per incorporare queste idee perché siamo entrati ormai nell'era dello sviluppo sostenibile come scrive l'economista e saggista statunitense Jeffrey Sachs un paradigma questo per combinare proprio sviluppo economico inclusione sociale e sostenibilità ambientale già questi pochi richiami superficiali che ho fatto ci fanno capire quanto sia vero quello che ha scritto un grande psicologo come Giancarlo Trentini scomparso tre o quattro anni fa che definiva la leadership come un labirinto di nodi di idee in cui è meglio non preoccuparsi di trovare il centro ma lasciarsi invece prendere dall'incantesimo delle verità plurali con la libertà del sapere che ne deriva rispetto al dominio di una qualche idea centrale malgrado questo avvertimento del Giancarlo Trentini sono cresciuti nel tempo però come sapete modelli e teorie tutti li abbiamo usati tutti li usiamo e riporto allora alla vostra memoria soltanto uno schema da per lo più conosciuto che ci semplifica molto e quindi che ci schematizza se non altro e riesce a schematizzare gran parte delle teorie e dei modelli allora possiamo distinguere come vedete nella slide nella figura tra teorie che si fondano sui tratti che si domandano dunque se leader ci si nasce o ci si diventi ci sono poi quelle teorie che focalizzano l'attenzione invece sui comportamenti e quindi indagano se ci siano comportamenti più efficaci eh di altri ci sono poi le cosiddette teorie contingenti che ritengono che ci siano situazioni in cui è più efficace usare uno stile di leadership rispetto a un altro infine ci sono le teorie che guardano soprattutto alle relazioni che si possono instaurare tra leader e collaboratori allora l'interesse e la vastità della letteratura disponibile hanno prodotto dunque questo che so che sto dicendo da qualche minuto hanno prodotto nel tempo tante etichette che possiamo interpretare come la formalizzazione delle differenti esigenze di leadership che un'epoca manifesta voglio mostrarvi per darvi una piccola testimonianza una cosa che traggo da un'esperienza di ricerca studio e se volete scrittura eh a servizio di un progetto editoriale che ho condotto qualche anno fa insieme a un team di colleghi ecco questi che state vedendo in questa immagine sono i titoli di 18 numeri di un magazine digitale destinato a manager che esplorava la leadership e le sue forme espressive la verità delle etichette che andavamo esplorando era così estesa che abbiamo deciso quando abbiamo chiuso questa esperienza che abbiamo deciso di titolare proprio l'ultimo numero forme per sottolineare proprio l'incapacità di ingabbiare l'esperienza della leadership in una forma universale essendo più utile invece approfondire le differenti forme che assume nel tempo proprio come l'acqua del romanzo di Camilleri da cui sono partito sulla multiforme semantica della leadership vi faccio vedere un'altra un'altra immagine per scoprire insieme ricordarci insieme quanta ricchezza e varietà ovviamente in questa slide non c'è tutto ho segnato le cose che ho potuto approfondire le cose che sono più alla mia portata non le commenterò tutte ne sottolineo soltanto qualcuna segnalo per esempio la leadership ribelle la leadership ribelle che nasce dalle idee e dai lavori di Francesca Agino che insegna ad Harvard sta discutendo molto successo è per questo che sento il dovere di citarla come un'etichetta contemporanea la seconda sottolineatura è la leadership smart che in questo tempo riempie non solo gli speech di CEO e HR ma anche numerosi lavori scientifici c'è poi la leadership sostenibile etichetta che sembra lo dicevo prima promettere i maggiori successi e sulla quale ormai devo dire si legge di tutto e anche di più come non ricordare poi la leadership fiduciaria teorizzata da George Zimmel se vogliamo spingerci poi nell'attualità e nel dibattito politico sindacale proprio di questi mesi di questi giorni mi piace ricordare la leadership collettiva di cui parla il sindacalista dei braccianti Abubakar che ne parla nelle agora che sta mettendo a rete e nelle quali si urla l'inferno del caporalato di uomini ridotti alla schiavitù nelle terre che prima pensavamo fossero solo al sud ma che mano a mano scopriamo essere al nord, essere al centro, insomma essere sotto casa c'è poi un'etichetta molto cara a noi della fondazione perché nasce proprio dalla riflessione maturata in questi anni nella fondazione lavoro per la persona e che è stato oggetto anche di un qualche interesse in lavori scientifici e anche in articoli di stampa si tratta della leadership di prossimità che enfatizza la sua dimensione relazionale all'interno della quale prende forma il prendersi cura la circolarità del dono come motori di generatività. Per arrivare infine l'ho messa per ultimo così mi dà il gancio per continuare e sto chiudendo questa riflessione introduttiva per arrivare poi alla leadership gentile che ci ha dato la spinta gentile per organizzare questo webinar la introduco velocissimamente e poi apriamo la conversazione. Di leadership gentile si parla da alcuni anni se ne parla perché per cambiare si sostiene non c'è bisogno della forza tanto meno della violenza ma di gentilezza è un approccio che ha dato vita a un vero e proprio filone di studi e ricerche anche di natura interdisciplinare la grande spinta è proprio il caso di dirlo a questo interesse la dobbiamo a Richard Taylor Richard Taylor è un premio Nobel 2017 è uno studioso di economia comportamentare ossia la disciplina scientifica che studia il modo in cui le persone prendono decisioni gli studi che ha condotto riguardano le scelte compiute in contesti molto diversi in contesti privati, in contesti sociali, in contesti finanziari, in contesti professionali ma di gentilezza secondo lo scrittore Gianrico Carofiglio che credo tutti conosciamo c'è tanto bisogno anche nella politica lo scrittore in questo bel volume parla della gentilezza quale applicazione del principio di cedevolezza come accoglienza perché rifacendosi al pensiero junghiano solo ciò che accetti può essere cambiato essendo allora la gentilezza uno strumento chiave per produrre senso nelle relazioni umane Carofiglio dice che questa può essere assolutamente uno strumento anche molto utile per la politica ma di gentilezza c'è tanto bisogno anche nel lavoro la questione allora è come riempire anche i luoghi di lavoro con spinte gentili prima di ascoltare allora il pensiero di Bianca e Guido i nostri ospiti e autori di questo volume che vedete appunto nella slide proviamo allora a imbastire un po' una chiacchierata, una conversazione con gli ospiti che prima vi ho presentato ecco allora abbiamo provato a mettere un po' di carne sul fuoco per inquadrare, per incorniciare spero in maniera gentile il tema della leadership, il libro e il volume di Bianca e di Guido allora proviamo un po' a discutere insieme c'è un filosofo, c'è una coach, un'imprenditrice c'è una manager, una direttrice del risorse umane io credo che mi pare abbastanza naturale mi viene naturale iniziare dal filosofo iniziare da Luca per chiedergli sostanzialmente Luca se il concetto di gentilezza è conosciuto anche nei classici se questo concetto di gentilezza al di là delle poche cose che ho messo sul tavolo sia una categoria una parola troppo forte una cosa già presente cioè che sta all'interno della sapienza delle culture e dei filosofi ecco, e se c'è e se è presente che importanza gli hanno attribuito grazie Luca grazie Gabriele, grazie alla fondazione grazie a tutte e tutti riduco i ringraziamenti per non rubare tempo e stare anche un po' nella ritmica del dialogo che ci siamo dati sì, la domanda fa un po' tremare i polsi perché di fatto se dovessimo stare soltanto al panorama del pensiero occidentale diciamo dovremmo ripercorrere un po' quasi 25 secoli nel senso che ne parla già Aristotele sul quale tornerò alla fine ne parla Marco Aurelio ne parlano molti autori della modernità allora, per non perdersi un po' nei labirinti mi piacerebbe semplicemente fermare due piccoli spunti allora, il primo è questo e cioè la gentilezza come la leadership e come l'acqua assume anche le forme che il tempo in cui le si presta attenzione la società che la mette al centro della propria attenzione decidono di darle ed è per questo che è una parola che non ha un significato univoco perché da una parte se ripercorriamo la storia del pensiero occidentale è una parola che si lega alla famiglia della benevolenza e quindi ha a che fare con la generosità con l'altruismo ma dall'altro lato è una parola che ha anche avuto una sua funzione strumentale e cioè la potremmo ricondurre alla famiglia dell'ipocrisia perché? perché è parola che spesso maschera e ha mascherato con discendenza con piacenza anche un certo narcisismo camuffato e cioè è stata o la parola che ha detto un modo di stare nella relazione e quindi la parola che ha vestito l'idea che il fine è la relazione oppure è stata una parola che ha prestato il fianco ad usare la relazione e cioè è stata l'imbellettamento che si è usato per ridurre la relazione a mezzo dall'altro lato la potremmo ridire anche in quest'altra maniera è una parola che ha abitato sia lo spazio pubblico che lo spazio privato e cioè la gentilezza è stata per molto tempo ridotta alla dimensione della relazione interpersonale era qualcosa che ci si poteva permettere soltanto dentro ad un legame consolidato dentro alla relazione con qualcuno che conosco e dall'altro lato è stata anche una dimensione ha avuto anche una dimensione pubblica e ad esempio tra il 700 e l'800 in quell'epoca che molti filosofi chiamano la società che si è rappresentata come il teatro del mondo ha avuto anche una funzione di apparenza era di fatto un galateo pubblico la gentilezza era l'abito che si indossava per entrare sulla scena pubblica questo soltanto per dire che davvero ha assunto per stare alla metafora che Gabriele usava in apertura forme diverse le forme che le persone le società e le culture hanno deciso di dare alla relazione e quindi in qualche maniera e chiudo il primo spunto la possiamo considerare una sorta di cartina di tornasole del pH della relazione e cioè la gentilezza misura il carattere acido o basico delle relazioni la seconda immagine invece la prendo un po' perché come dire un filosofo che non cita un filosofo stona un po' un po' perché Aristotele sta sempre bene ma in realtà perché perché quando uno è un classico vuol dire che sa parlare a tutti i tempi prendo un'espressione che Aristotele usa nella retorica e che e che mi piace un po' riprendere perché perché è paradossale che arrivi da un autore che vive nel quinto secolo avanti Cristo e cioè in un'epoca dentro ad una comunità dentro ad una realtà in cui lo schiavo era un tensile in cui non c'era ancora contezza di quella che per noi poi è diventata la dignità bisognerà passare attraverso la tradizione cristiana la modernità dei diritti però in quella società di grandi esclusioni e di grandi conflitti di grande violenza Aristotele nella retorica definisce la gentilezza la disponibilità verso qualcuno in cambio di nulla la disponibilità verso qualcuno in cambio di nulla perché questo riferimento è davvero chiudo perché altrimenti rubo troppo tempo per due elementi che secondo me in qualche maniera sono ci aiutano a leggere quello che è successo in questi secoli e ci aiutano a capire perché anche rispetto al tema del potere dell'autorità e della leadership ricompaiono sulla scena tutti quei termini che Gabriele ci ha tratteggiato che c'è di valore in questa espressione due parole disponibilità e nulla e cioè Aristotele ci dice di fatto due elementi che noi col passare dei secoli e soprattutto dopo l'avvento della modernità abbiamo un po' trascurato il primo elemento ciò che c'è tra le persone non è soltanto un interesse egoistico detto in maniera più articolata ciò che circola tra le persone non è soltanto nella forma dello scambio non è soltanto nella forma del calcolo anzi ciò che circola tra le persone dice Aristotele raggiunge il bene quando è totalmente fuori dalla dimensione del calcolo e dello scambio e questa è una grande provocazione perché perché chi occupa un ruolo chi occupa un ruolo di responsabilità che margine ha per darsi tempi e spazi per immaginare le relazioni dentro alla sua responsabilità in quella maniera secondo elemento e davvero chiudo ci dice quando parla di disponibilità quello che veniva in parte detto prima e cioè che veniamo da secoli in cui la narrazione del nostro modo di agire si è caricata di un connubio molto perverso di volontà e potere che ha fatto in modo che sentissimo il valore di questo connubio ciò che io voglio e ciò che io posso soltanto quando abbiamo favorito la logica dell'incremento di potenza il potere è diventato potere di potere e quando Aristotele dice disponibilità verso qualcuno invece ci dice che c'è uno spazio di abitare la relazione che è proprio della gentilezza in cui l'esposizione il mettersi a disposizione e vedere l'esposizione degli altri qualcuno che mi si concede anche nella sua fragilità arriva prima della detenzione mettersi a disposizione è un elemento di gentilezza nella misura in cui non diventa strumento di detenzione grazie Luca quanta ricchezza guardate sto tavolo come si sta apparecchiando con tanti veramente materiali io vorrei proseguire con Gaia riprendo un attimo Gaia un paio di passaggi di Luca comincio proprio dall'ultimo quello di Aristotele disponibilità verso qualcuno in cambio di nulla e lo ricollego con il fatto che appunto sia proprio come ha detto prima la gentilezza in senso di cartina al tornasole così ha detto della relazione quindi questo tema della relazione questo tema della relazione che immagino nel tuo mestiere nella tua professione tu parli quotidianamente non so il numero ma immagino con una mano forse le dita di una mano non bastano con tanti manager sia a livello esecuti più alto ma anche a livello di manager comunque senior immagino ecco mi piaceva un po' dire questo tema delle relazioni questo tema del bisogno di gentilezza anche come disponibilità quindi il tema che Luca un po' ci apparecchiava il tema della gratuità il tema insomma di non mettere sempre le cose all'interno di uno scambio se è una categoria se è un'esigenza se è un fabbisogno che tu senti nella tua professione ascoltando tanti e tanti manager beh tante innanzitutto grazie Gabriele poi ho scritto moltissimi appunti in base a quello che avete detto e sarebbe bello poter approfondire tutti questi filoni estremamente stimolanti ma per venire alla risposta anche più diretta a quello che tu poni sul tavolo se questa esigenza sta emergendo sì e no nel senso che per certi versi c'è una pulsione verso questa dimensione e dall'altro lato c'è anche un timore di questa dimensione qui introduco un tema che è legato anche agli archetipi di cui noi siamo imbevuti a livello proprio di forma e pensiero che abitano la nostra psiche noi siamo perlomeno chi lavora con i manager con i leader sa che ci sono degli archetipi molto forti penso a antichi miti come quelli di Achille o di Ercole che ancora abitano l'immaginario ma stanno facendo capolino piano piano anche altre figure di questo magari spero che avremo occasione di parlare dopo perché si stanno affacciando antieroi antichi come l'antico Chirone che era un eroe della fragilità ma se avremo tempo ne parleremo io volevo introdurre sul tavolo mettere sul tavolo altri due sfaccettatori della gentilezza che sono legate proprio alla mia esperienza più empirica un po' di tutti i giorni ecco per riuscire ad attingere a questa dimensione io credo che esistano ascoltando anche i clienti le persone con cui lavoro due grandi filoni uno è la capacità di immaginare l'altro quindi la capacità di riuscire ad emergere dalla prigione del proprio ego e questa è una tematica che sento spesso questa ecco è una tematica che fa capolino sempre più prepotentemente in tutti i dialoghi di coaching di team eccetera quasi come se l'ego questa nostra identità diventasse a volte una prigione una prigione apparentemente dorata ma dalle sbarre molto solide ed ecco che appena io riesco a fare capolino da questo ego e riesco ad immaginare l'altro ad immaginarmi la sua vita ad immaginare le vicende che attraversano la sua esistenza ecco che allora probabilmente comincio ad avvicinarmi al territorio della gentilezza un'altra dimensione che può essere d'ostacolo alla gentilezza è il rapporto che ho con la sofferenza e con il dolore e questo è un momento molto critico che noi stiamo vivendo perché la pandemia ci ha portato da un verso a poter immaginare l'altro ma a volte all'essere impediti nell'immaginazione dell'altro proprio perché non riuscivamo a contattare la nostra sofferenza allora qui c'è un appunto che io mi ero fatta che è proprio questo chi ha un rapporto disturbato con il proprio dolore quindi anche con la propria sofferenza e non ci dialoga non ci entra in relazione ha molta più difficoltà a entrare in empatia a immaginare l'altro e quindi anche ad essere gentile quindi ecco probabilmente una direzione empirica operativa potrebbe essere proprio quella di aiutare le persone e questo è il terreno direi su cui ho lavorato nell'ultimo anno con tutte le persone sia nel coaching che nel group coaching che nel team coaching cioè aiutare le persone a contattare la propria sofferenza anche a verbalizzarla anche la propria confusione anche il proprio smarrimento allora nel momento in cui io riesco a far avvicinare le persone a questa dimensione ecco che cominciano a scorgere sullo sfondo la possibilità di essere gentili perché prima di tutto è un atto di gentilezza verso se stessi ecco questo è ciò che io sto vedendo nella contemporaneità grazie Gaia mi viene da dire una cosa fuori offline insomma che non abbiamo ascoltato ancora né Rossella né Guido né Bianca ma c'è materiale per farci una giornata di workshop per approfondire perché veramente tante cose allora tra l'altro hai alzato credo delle palle non voglio per carità preordinare gli interventi ma essendo una degli autori cioè Bianca psicoterapeuta credo che hai toccato un territorio un territorio interessante anche per lei allora abbiamo ascoltato il pensiero ecco abbiamo ascoltato il pensiero abbiamo ascoltato l'esperienza seppur in tre minuti quattro minuti attuale di una coach quindi una persona che lavora in termini di lasciatemi dire così di sostegno appunto di sostegno alle persone e adesso ci spostiamo con Rossella su un territorio ancora diverso il territorio invece dell'agire dell'agire organizzativo appunto del management e allora chiedo a Rossella se in qualche maniera questa gentilezza anche nell'impresa si sente davvero bisogno cioè qual è la tua esperienza dal punto di vista dell'impresa e soprattutto se questa gentilezza è un'etichetta che in qualche maniera sta cominciando a entrare anche nel lessico nel lessico manageriale ho paura però che Rossella mi compare frizzata può essere? sì è clamoroso per una donna no ma mi sentite? sì sì ti sentiamo ecco ero assorta ero assorta eccoti qua a te allora Gabriele buonasera ciao a tutti a essere sincera per quanto riguarda la mia la mia esperienza la gentilezza non è propriamente entrata nel lessico aziendale quantomeno non dalle mie parti il che però non significa secondo me che le aziende siano distanti da una rivoluzione gentile no? perché poi se noi decliniamo la gentilezza in nei suoi sfaccettati significati no? come diceva Luca prende un po' varie forme come l'acqua e allora la gentilezza e anche rispetto la gentilezza è ascolto la gentilezza è empatia la gentilezza è inclusione e questi termini invece sì questi termini sono entrati prepotentemente direi nel lessico aziendale e nel lessico manageriale sono anni che noi facciamo programmi di coaching che sono basati sull'ascolto attivo facciamo corsi sull'intelligenza emotiva per sviluppare l'empatia abbiamo capito che queste competenze sono un volano incredibile più delle competenze hard anche per cogliere delle opportunità di carriera no? quindi fanno parte proprio di un percorso di sviluppo manageriale tutte le aziende oggi stanno lanciando dei piani legati all'inclusione e nelle organizzazioni Rossella scusaci non ti vediamo e quindi stavamo provando a in qualche modo ripristinare la tua immagine mi vedete? ma non ci siamo riusciti no vediamo Nero ti chiediamo la cortesia di spegnere per un attimo la tua webcam e riattivarla oddio questo è ah ok vediamo se si riesce a recuperare anche il collega purtroppo no no niente ma mi sentite? ci sentiamo ti sentiamo continua e allora continuo così scusate poi magari riapparirò e quindi tra l'altro in tutte le organizzazioni stanno fiorendo proprio strutture dedicate alla diversity e all'inclusion quindi la gentilezza incomincia attraverso un lessico differente a entrare nelle nostre organizzazioni ma poi riflettevo anche che gentile deriva in latino gentilis da gens e quindi l'appartenenza etimologicamente l'appartenenza a una comunità che condivide dei valori alti e qui voglio dare solo una pillola proprio di esperienza molto concreta e molto recente perché proprio con Gabriele con il suo team abbiamo sentito l'esigenza di rivedere il nostro modello di leadership alla luce di una necessità derivante da questa nuova modalità di lavoro con la modalità di lavoro ibrido e l'abbiamo chiamato modello di cittadinanza proprio a voler sottolineare che noi facciamo parte all'interno di Win3 di una comunità che condivide dei comportamenti una cittadinanza che richiama anche un concetto di cittadinanza attiva in cui ogni cittadino di Win3 si attiva per creare un valore condiviso per tutti gli stakeholders siano gli azionisti siano i clienti tutte le nostre persone e la società perché poi l'azienda fa questo no? la reason why perché le le aziende investono su queste forme di gentilezza secondo me per due motivi fondamentali uno è per la reputazione che per le aziende sta diventando sempre più importante per attrarre trattenere talenti per attrarre clienti che danno sempre più importanza alla reputazione aziendale per attrarre anche investimenti e poi ovviamente per l'engagement la gentilezza e l'inclusione e l'engagement sono proprio quella l'ingrediente magico che massimizza poi la performance grazie Rossella grazie anche qui tante tante cose ne prendo una perché è quella che mi ha colpito forse è che appunto dicevi che le vie di entrata della gentilezza in azienda possono essere diverse non c'è un'unica via ma ci possono essere tante tante entrate questo è davvero interessante allora sentite stiamo andando un po' più lunghi del previsto ma voglio però un secondo gito se mi promettete vi faccio una domanda uno spunto e proprio in un minuto una battuta perché adesso a questo punto credo che ci abbiamo veramente curiosità e interesse ad ascoltare Bianca e Guido e poi vedo che stanno arrivando anche delle domande e quindi poi dopo le gireremo allora rifacciamo proprio il giro proprio veramente un minuto se riuscite a Luca gli chiederei dopo aver ascoltato la parte organizzativa di un'azienda come Win3 eccetera e anche tu stai in una organizzazione no ecco che aria tira nelle università a proposito di gentilezza questa questa è più difficile di fare una sintesi di 25 secoli allora non so che aria tira complessivamente non so se si può spendere una parola unica per per accumulare un po' anche le diversità la sensazione personale è che è un po' quella che mi permette di raccogliere quello che dicevano anche Gaia e Rossella cioè noi io abbiamo a che fare nella maggior parte dei casi con giovani che sono alla ricerca delle proprie vocazioni e delle proprie competenze e che cercano attorno a quelle di costruire conoscenze e competenze da questo punto di vista l'università è molto e troppo spesso ancora dentro a quella logica di potenziamento e di un potenziamento che è figlio anche di una fatica educativa autentica allora provo un po' a chiudere dicendo questo in un certo modo se dovessi immaginare lo spazio della gentilezza dentro l'università e cioè in un luogo che è di ricerca e di formazione direi che mi verrebbe da presentarla così è una grande sfida perché è un po' il ponte che dovrebbe tenere insieme da una parte tenerezza e attenzione e cioè correggere la tenerezza con l'attenzione e correggere l'attenzione con la tenerezza e cioè essere sensibili nei confronti di quelle fragilità non dette degli studenti senza che questo implichi prendere toni paternalistici questo significa sintesi tra tenerezza e attenzione e dall'altro lato è il ponte che dovrebbe tenere insieme reciprocità e asimmetria e cioè far capire che in questa dimensione di circolarità resta educativo e formativo un canale di asimmetria che non annulla i ruoli ecco la gentilezza credo sia la maniera con cui abitare in modo generativo la reciprocità e l'asimmetria insieme ok grazie Luca proprio veloce veloce Gaia e poi Rossella Gaia tu qualche anno fa mi hai fatto conoscere una persona che non conoscevo non avevo letto Piero Ferrucci Piero Ferrucci è un psicoterapeuta un filosofo e ha scritto un libro molto bello La forza della gentilezza e cosa direbbe oggi Ferrucci secondo te se fosse qui proprio una battuta davvero venti secondi sei muta sei muta Gaia Gaia sei muta sei muta quando mi hai lanciato questo stimolo su Piero Ferrucci di cui ti ringrazio che è un autore che amo molto ho proprio pensato a una frase che lui avrebbe detto che è questa la dirò in estrema sintesi la gentilezza fa bene a chi la riceve e a chi la fa perché la gentilezza dà un senso e un valore alla nostra vita la gentilezza si ancora profondamente all'idea di servizio ed ha a che fare con la capacità di autotrascendimento dal togliere l'attenzione su di sé e dal porsi una domanda nuova c'è da fare qualcosa da qualche parte per qualcuno bello bello chi non lo conosce Piero Ferrucci va a letto perché è veramente straordinario allora Rossella una battuta proprio non ti faccio una domanda ecco cos'è che ti porti via cos'è che vuoi dire in chiusura di questa conversazione sulla sulla gentilezza la gentilezza crea benessere organizzativo e crea benessere nelle relazioni io qui voglio citare il mio capo che ho la fortuna con cui ho la fortuna veramente di collaborare perché è raro penso che a livello di amministratori delegati si eserciti una leadership gentile però lui lo fa il suo paradigma è trattare nella stessa modalità chi sta sopra di lui chi sta sotto di lui chi sta a fianco a lui e questa è la lente attraverso la quale valuta tutti quanti noi nell'esercizio della nostra capacità di leadership e voglio citare il suo motto che ce lo ripete spesso handle yourself when you handle yourself use your head when you handle others use your heart quando gestisci te stesso usa la testa quando gestisci gli altri usa il tuo cuore vieni grazie Rossella grazie davvero allora grazie davvero Luca grazie Gaia grazie Rossella per questa conversazione che devo dire ci ha dato tanti materiali e voglia e voglia di come si dice di continuare a esplorare questo tema che Bianca e Guido ci ha dato possibilità con il loro libro di farci trattare allora Bianca e Guido io non c'ho delle domande a voi vi ascoltiamo con tanto piacere una curiosità ce l'opero perché questo libro l'avete scritto insieme quindi ho lavoro anche di coppia ecco quindi come se posso se posso fare una domanda ma come nasce come viene nata sta cosa di scrivere un libro insieme come coppia infatti intanto grazie mille un sacco di stimoli avrei voluto anche diciamo approfondire con chi ci ha preceduto ma il tempo purtroppo scarseggia quindi tante cose molto molto belle io sarò un po' più prosaica e quindi comincio proprio da questo stimolo Gabriele allora non abbiamo deciso di scrivere un libro è accaduto è accaduto perché durante la pandemia il primo lockdown eravamo tutti a casa noi siamo cinque quindi una situazione piuttosto abitata a casa e abbiamo condiviso le esperienze che stavamo facendo con i nostri lavori che sono diversi ma hanno dei punti in comune e per cui abbiamo condiviso le nostre perplessità io facevo queste videochiamate con i pazienti non mi sentivo assolutamente in grado di farle come come è possibile fare delle videochiamate su Skype con la connessione che va e viene vedere entere famiglie in un rettangolino di telefono e nello stesso tempo anche con Guido ci siamo confrontati lui ha avuto la nomina durante la pandemia una nomina importante che uno magari pensava di poter condividere di festeggiare di viaggiare eccetera e dall'unione di queste riflessioni tra l'altro riguardo quello che diceva mi sembra non so se Gaia rispetta la sofferenza io ho cominciato ad avere una tosse pazzesca e non respiravo cioè mi svegliavo di notte con un affanno reale quindi ho detto vabbè c'ho il covid chiama il medico cosa devo prendere poi ho detto Bianca nonostante le tue plurime specializzazioni la tua veneranda età stai impanicata sei preoccupata preoccupata per te per i tuoi figli per la gente intorno che sta male che sta morendo che non ce la fa perché non sai come fare con questi pazienti cioè quindi ce lo vogliamo dire ecco nel momento in cui è successo questo che ho smesso di preoccuparmi più di me stessa e di capire lo stesso diciamo Guido che era comunque a casa io sentivo questo inglese maccheronico questo hola Manuel dico ma tutte queste telefonate ma che stai facendo lui praticamente ha chiamato tutti i responsabili del personale worldwide cioè mondo per dire ecco sono qua non per dire chissà che cosa ma ci sono sono stato nominato qualcuno di voi mi conosce qualcuno no come ma che fate com'è la realtà ma non è che lo chiedeva soltanto il responsabile lui poi si è fatto scrivere in un modello bottom up quindi dall'amministrativo da chi aveva delle mansioni tutto diciamo un assessment su com'era l'atmosfera in azienda per loro che cosa andava male e che cosa potevano loro proporre allora ci siamo confrontati abbiamo detto ma noi facciamo la stessa cosa cioè io alla fine con i pazienti cosa faccio ci sto delle volte noi con i pazienti possiamo solo esserci esserci e sostenere essere interessati alla loro vita al loro dolore il leader mutati smutandi e i responsabili fanno la stessa cosa se possono cioè sono interessati al loro team hanno cura di quello che accade ecco la cosa che ci ha diciamo abbiamo trovato questo punto in comune è che quello che rimaneva di tutto questo non soltanto nelle nostre professioni ma anche all'esterno noi vedevamo il marito che faceva la serenata sotto il balcone alla moglie cioè è di avere una cura quindi una riumanizzazione delle cose e noi ce ne rendiamo conto solo quando succedono queste catastrofi no? la guerra la pandemia magari uno si può augurare che in tempi di normalità si recuperino in queste cose e quindi il concetto diciamo di avere cura è spettamente legato all'essere gentile nel senso che la gentilezza non è qualcosa di dato o qualcosa di impostato ma se io ascolto i miei bisogni e ho cura degli altri questo automaticamente mi fa essere più gentile ma io posso esserlo con gli altri se lo sono verso di me cosa vuol dire essere gentili verso se stessi vuol dire accettare che la propria psiche è complessa noi siamo non è tutta questa armonia dentro di noi no? noi siamo sempre dilaniati tra opposti vogliamo una cosa e non la vogliamo tendiamo comunque a mettere da una parte le nostre vulnerabilità quello che non capiamo quello con cui abbiamo difficoltà le nostre fragilità e invece ci sentiamo molto forti in quello che noi sappiamo fare no? ecco se noi diciamo accettiamo in un tutto diciamo che esistono tutte queste cose dentro di noi no? forse guardiamo l'altro con meno timore abbiamo meno bisogno poi di utilizzare l'altro per risolvere i nostri problemi e lo stesso funziona perché il leader in azienda non è che uno è un mutante cioè chi ha ruoli di responsabilità in un'azienda è sempre un uomo o una donna non è che quando varcano la soglia dell'ufficio diventano delle altre persone anche loro hanno le loro prepressità le loro fragilità le loro indecisioni non sapere cosa fare in questo anno ma chi aveva la certezza di sapere cosa era giusto fare con lo smart working con tutto il mondo del lavoro impazzito nessuno lo sapeva si andava per tentativi ed errori ma se c'era una pensabilità che il leader il responsabile era preoccupato per il benessere dei suoi collaboratori perché si è entrati di più nelle case degli altri e anche i collaboratori sono entrati di più nelle case dei loro responsabili ecco forse lì qualcosa può cambiare e non c'è niente di eroico in questo ma c'è molto di umano secondo me grazie Bianca Guido tocca a me io vado molto praticamente a raccontarvi la teoria lo stimolo allora noi arriviamo da cento anni in cui mascherati abbiamo applicato meccanismi manageriali e relazionali legati al potere organizzativo gerarchia potere risultato diciamoci la verità e questo modo di operare ci aveva portato a un delirio di onnipotenza di iperattività voi pensate la gioia con cui i top manager i politici gli imprenditori ostentavano agende frenetiche voli transcontinentali per andare a fare poche cose treni presi per un'ora di riunione eravamo nella hubris il delirio di onnipotenza ci siamo fermati clamoroso un evento che oltre al dolore che ha portato ci deve mettere in condizione di riflettere e fermandoci abbiamo ridato valore alle cose importanti ed ecco che parte la teoria che abbiamo sviluppato confrontandoci in quei giorni con Bianca sul fare ci sono cento anni di scuola umana l'execution i risultati gli andamenti finanziari sul sentire siamo all'elementare noi abbiamo detto il fare non abbandoniamolo ci mancherebbe storia dell'umanità realizzare ma iniziamo a esplorare un altro binario quello del sentire sentire le proprie paure sentire le proprie emozioni sentire le vocazioni sentire il senso che proviamo a fare le cose bene quindi abbinando al cosa facciamo il come iniziamo ad aprire un meccanismo io voglio subito sfatare scusate la gentilezza non è buone maniere non è garbo non è cortesia non c'entra nulla la gentilezza è un'abitudine relazionale ispirata da una consapevolezza in sé e votata a entrare alla relazione con gli altri è ovvio cambia la storia ma la relazione è l'universo da esplorare e la gentilezza è un'attitudine non è né genetica né culturale e la lettura dell'altro rispettandolo quindi io in questo garbatamente dissento da Luca perché non si può confondere la gentilezza con le buone maniere stiamo in un altro mondo e quindi vado avanti su questo terreno ogni epoca ogni storia ogni ambiente ha la relazione da costruire ma nell'ascolto dell'altro nell'apertura all'altro si esplora un universo unico che è l'incontro ora guardate in questi giorni di dolore di preoccupazione di speranza cosa abbiamo riscoperto in famiglia tre codici che ci aiutano molto a capire cos'è la gentilezza quelli che si vedono nel padre nella madre nei fratelli pur non andando identificarli il codice materno che può essere applicato da un uomo è quello di far sentire tutti unici quindi pensate al leader gentile che applica il codice materno entra in una relazione con il collega in cui non è un numero è un volto lo sottrae dall'anonimato vede la sua storia vede la sua vocazione quindi questo è un codice importantissimo nella gestione della relazione gentile che dà spazio poi c'è un altro codice però che è molto conosciuto in azienda ma anche in famiglia quello del limite non è tutto possibile è il codice paterno ma non è un codice che ti vuole umiliare ti vuole semplicemente far desiderare io ti dico che non è tutto possibile perché così abilito il desiderio e così abilito un percorso di crescita e di movimento verso il desiderato meritato il codice del noi è forse il collante perché nel momento in cui in una famiglia arriva un fratello o una sorella anche lì cessa l'unicità si ha paura di non essere più importanti come prima di perdere affetti esattamente quello che si prova in un'azienda arriva un collega ma prenderà il mio posto perché l'hanno assunto non sono bravo ho meno importanza ma dopo quando si elabora il lutto di non essere unici ecco la potenza del noi un noi che ti sa dire le cose perché un fratello ti rimprovera ti prende in giro ti educa a non essere narcisista esattamente come il confronto con l'altro in azienda bene andiamo avanti se un'attitudine una possibilità che ci diamo e quindi diciamo è una ricerca di una relazione potenziante per sé e per gli altri quindi può nascere da un egoismo la gentilezza l'egoismo di essere utile a se stessi e agli altri ecco che ci sono altri tre passaggi che sono strategici il primo spazio al centro noi dobbiamo lasciare gli altri manifestare opinioni dobbiamo pensare che quando dicono una cosa non è contro di noi ma come diceva appunto uno psicanalista famoso che identificherete subito le cose non sono per quelle che sono ma per quelle che siamo quindi dobbiamo avere molta attenzione in questo spazio che cediamo poi c'è un altro tema che gentilmente va attivato il confronto dei saperi nessuno avrà mai più la verità in tasca ecco la potenza della multidisciplinarità se io ascolto un'altra logica un'altra tecnica un altro mestiere forse riesco a rivedere l'ecosistema con occhiali che non avevo mai indossato l'autopoiesi l'autorigenerazione molto interessante nella logica della leadership gentile cioè pensate alla stella marina la stella marina perde un braccio e si riforma ma non solo si stacca un braccio della stella marina e si riforma tutta la stella ecco il sogno nostro della gentilezza è che questa potenza di autodarsi senso scegliere la vita che vogliamo essere non replicare modelli che abbiamo subito perché noi quando parliamo di gentilezza anche Rossella lo diceva sorridono in azienda la gentilezza e quindi e quindi cosa si scarica a terra ma allora io vi do un'immagine immaginate un tubo della fogna qui dietro di me che scarica a terra liquami è bello scaricare a terra liquami? no non è bello allora la leadership gentile prima di dire so what domani cosa scarichiamo a terra fa fare delle domande dobbiamo scaricare a terra ciò che ci valorizza ciò che umanamente garantisce un percorso di credibilità e sostenibilità è chiaro siamo convinti che è una sfida al potere costituito Gabriele perché dà fastidio dà fastidio pensare di dare spazio al centro di chiedere alle persone di partecipare di non dare subito l'ultima parola ma di dare la parola ascoltandone i contributi ecco idealismo sì però come l'orizzonte marino si dice ma io domani di pane e idealismo non vivo però l'orizzonte marino è come l'idealismo fa navigare ti muovi e qualche volta all'orizzonte scopri cose che per il pane e formaggio non saresti mai andato a cercare chiaro chiaro state dicendo tante cose nel frattempo adesso ho due tre domande che magari vi passo rapidissimamente però bello la riumanizzazione è la parola che più mi ha colpito tra le tante di bianca il sogno dalle parti tue il sogno è sentire il verbo sentire molto utilizzato l'ha utilizzato anche bianca naturalmente tu l'hai potenziato questo tema della l'idealismo gentile come ricerca di potenziare la relazione e quindi anche in chiave di autorealizzativa cioè un'altra parola che ho usato molto è quello della vocazione la ricerca delle vocazioni eccetera vi voglio passare una domanda che è arrivata per esempio Giovanna chiede ma in parte l'hai toccato tu ma come si anche Luca proprio all'inizio l'aveva forse toccato come si concilia ci domanda Giovanna la gentilezza con l'autenticità non si può correre il rischio che la prima si trasformi in ipocrisia rispondo scusa Bianca in maniera piatta poi ti lascio le cose più profonde pensate a un feedback di questo tipo Gabriele hai condotto questa webinar in maniera disastroso non verrò mai più perché lo trovo assurdo oppure pensa a questo altro feedback Gabriele che bello è stato stare con te forse avrei preferito iniziare per avere poi degli stimoli esperti e andare a un dibattito congiunto valuta la prossima volta se può essere più utile ecco secondo voi secondo voi non si può dare un feedback sereno senza cadere in meccanismi critici l'ipocrisia non c'entra niente con la gentilezza un esempio naturale la caccia quando nasce è una pianta spinosissima piena di spine quando cresce ha un tronco nodoso accogliente è una metafora dell'animo umano quando è giovane ha le spine perché ha molta paura di essere mangiata da erbivori ha dei problemi interiori diventa aggressiva dopo è serena accogliente piacevole l'animo umano forse così quando ha dei problemi diventa sgarbato quando è serena accogliente allora ecco non è mai ipocrita è accogliente e sa dare il feedback in maniera serena Bianca non so se vuoi dire qualche cosa altrimenti c'ho un'altra domanda no vabbè ma è interessante questo legame tra autenticità e gentilezza con cui già ci siamo confrontati diciamo per me autenticità è una coerenza tra ciò che si pensa e ciò che si sente soltanto che è difficile essere autentici perché magari uno ha dovuto sviluppare dei comportamenti per compiacere qualcuno sia nella vita privata che in azienda quindi uno poi dopo alla fine non sa più dove si trova quindi che cosa vuol dire definirsi l'autenticità ha a che fare con il definirsi e definirsi comporta un rischio perché se io mi definisco alla fine ci sarà un giorno in cui io faccio una scelta in cui trovo la mia collocazione sia all'interno di un'azienda capisco perché io faccio quel lavoro o come sono arrivata ad avere un ruolo di leader e di responsabilità anche all'interno delle relazioni perché noi stiamo parlando solo di azienda ma la leadership non è soltanto in azienda anche tra genitori e figli quindi nel momento in cui io sono in contatto con questo con quello che davvero prima devo scoprire ovviamente qual è la mia vera natura e dove voglio andare perché se io non do la mia risposta a questo mi devo accontentare di quella degli altri quindi sai essere autentico è molto difficile perché uno deve aver risolto questo e quindi come si fa ad essere autentico cioè io lo vedo piuttosto slegato dalla gentilezza il punto è come si fa ad essere autentici perché non è così semplice chiaro chiaro le prospettive sono tante tutte veramente complesse c'è un'altra domanda di Emanuela Emanuela chiede se la leadership gentile è per ora solo in parte nell'agenda dei manager come probabilmente ha ascoltato prima anche dalle parole di Rossella quali strumenti vedete per promuoverla ed alimentarla quindi insomma come si fa ecco Bianca vado io o vai tu no vai tu ti vedevo pronto no no io penso che noi dobbiamo sdrammatizzare questa ingiunzione paradossale dobbiamo iniziare con comportamenti microindividuali potenti la cultura non la troviamo dietro gli angoli delle strade ma la troviamo nella mente delle persone che con autenticità iniziano a confrontarsi nel rispetto degli altri promuovendo idee e comportamenti io sto lanciando un tema di costruiamo gentilezza con un'accademia della gentilezza nei vari settori con Bianca quindi lavoro sanità scuola politica media creando dei testimonial perché Gabriele è determinante la coerenza enunciante e enunciato cioè ci vuole o chi ti dice io dico una cosa ma non guardatemi guardate il mio pensiero oppure qualcuno che la pratica e allora dobbiamo aiutare con comportamenti micro attivabili in ogni individuo dei piccoli gesti possibili che sommati generano l'onda perché l'attesa di un mondo gentile con CEO gentili azionisti gentili e clienti gentili è come dire non credo alla teoria dobbiamo attivarci chiaro in parte risponde a una domanda di cui non so chi l'ha fatta perché non si è firmato però ve la ve la pongo la gentilezza incide istantaneamente sull'altro ma in ogni ruolo in ogni comparto in ogni campo economico con la stessa forza mi pare che questo discorso trasversale che stavi dicendo adesso è un po' è una bozza di disposta insomma sì io non insisterei lascio a Bianca aggiungere per me sì perché è sempre relazione umana ovunque Bianca no certo sì io sono assolutamente d'accordo e penso che la diversità delle conseguenze diciamo di questa gentilezza nei vari ambiti forse è irrilevante nel senso che io penso che anche il fatto di esporsi in prima persona nel senso che adesso non perché Guido sia mio marito insomma quindi non non è che ci abbia mai tenuto tanto a portarlo in palmo di mano ma quello che mi ha fatto scattare poi una serie di riflessioni è perché ho visto che lui si è esposto in prima persona cioè lui non è che sta in un'azienda così no sì per carità l'Enel adesso è molto sulle rinnovabili però insomma non è proprio un ambientino di quelli tranquilli quindi voglio dire è un esporsi in prima persona e sostenere le proprie idee perché le vere trasformazioni partono da noi stessi non è armiamoci e andate no questo in tutti i campi in tutti i campi anche nel mio cioè se una terapia non funziona con un paziente io non è che mi metto a dire e beh certo c'è una situazione pazzesca mi è arrivata imbottita di farmaci con una storia allucinante è una resistenza forse io posso pensare di non essere stato in grado di aiutare questa persona e quindi mi espongo in questo senso non mi trincero dietro delle sicurezze idealizzanti perché io ho i miei attestati nella mia stanza d'analisi mi espongo anch'io e devo dire che lui si è esposto in un modo abbastanza forte in un ambiente che non è stato poi così accogliente no? Quindi gentilezza e anche metterci la faccia insomma di dire che è anche questo bene allora si è fatta no tardi no però sono le 18 e 20 al mio orologio dico soltanto una cosa poi se ci avete ancora due minuti vi faccio vedere solo una cosa però mi sembra gentile e anche cortese ma anche doveroso chiedere se ci hanno una battuta se vogliono fare una battuta rispetto a quello che hanno ascoltato ai nostri ospiti della conversazione precedente cioè a Rossella Gaia e Luca ci avete una cosa da dire proprio tac una se volete naturalmente no 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 partitesi tra gentilezza e autenticità io piuttosto parlerei di gentilezza e coerenza no si è autenticamente gentili quando si assume un comportamento inclusivo accogliente aperto all'ascolto verso tutti e quindi completamente scevri da un approccio opportunistico bene grazie a me viene da aggiungere una cosa soltanto che è un po' politico l'iscorrect o incorrect è una frase di Che Guevara che tra l'altro credo che abbiamo anche da qualche parte che lui diceva una cosa molto bella che ricordo tutte le serbe di andare a dormire che bisogna essere duri senza perdere la tenerezza c'era nel nostro ufficio Gaia lo so lo so non volevo autocitare me la porto dietro dal 1998 esatto e forse questa ecco ripensando tutto quello che avete detto è un po' la quintessenza della gentilezza e mi piaceva quello che diceva Guido che essere gentili non vuol dire essere damerini azimati tutti così ma vuol dire essere teneri con il coraggio anche di dire le cose dure ma di dire le cose dure con il cuore cioè te le dico perché ti ho a cuore e quindi mi prendo il rischio anche di dirtele Gabriele quando una persona urla per strada bloccando un bambino che non così andrà sotto una macchina non sta sussurrando urla ma è gentile ma è gentile dobbiamo uscire dai paradigmi giusto ma il c diceva anche se puede che vuol dire si può si può fare se puede Luca a te no io io metto il dito in una in una buona piaga nel senso che davvero credo che autenticamente la questione sia il rapporto tra autenticità e gentilezza nel senso che lungi da me pensare che che la gentilezza coincida con una facciata di opportunismo però il tema è esattamente capire se se la gentilezza è un nudge o se la gentilezza è un modo autentico di sentire la relazione credo che questa sia autenticamente la sfida perché anche dentro al paradigma della spinta gentile che di fatto è una grande costruzione di architettura delle decisioni e delle azioni il rischio è che la gentilezza venga strumentalizzata in un'ottica dell'incentivo quindi io sono totalmente d'accordo con quello con quello che ho sentito è un modo d'essere ed è un modo d'essere che costringe le persone davvero a lavorare sulla propria autenticità che non può essere trasparenza totale ma che non può essere neppure strumentalizzazione dell'altro grazie mi pare che abbiamo chiuso questa con molta ricchezza ulteriore veramente ti viene voglia di rifare una roba in un'altra occasione insomma perché di materiali ne sono venuti davvero tanti quindi io ringrazio tutti ringrazio naturalmente il tuo primo Bianca Guido grazie per averci dato la spinta gentile a organizzare questo webinar per mettere al centro la leadership e le sue forme e abbiamo capito tante cose abbiamo capito che comunque la relazione è sempre la parola più importante è proprio la parola che sta al centro di ogni di ogni cosa se mi date ancora un minuto vi faccio vedere una slide che mi serve soltanto per annunciare e non posso perdere questa occasione il nostro prossimo evento culturale l'evento culturale più importante di quest'anno è la quinta edizione del Film Festival ha un titolo crediamo molto bello attraversare la distanza per una nuova prossimità nella società nelle imprese nel lavoro quindi spero che ve lo possiate annotare poi naturalmente vi romperemo le scatole vi manderemo un po' di social messaggi eccetera eccetera però se qualcuno è diligente già cia voglia di annotarsi il 17 18 19 settembre state tranquilli saranno quattro sessioni articolate in queste tre giornate che occuperanno in tutto 7-8 ore in tre giornate quindi digitalmente sostenibili grazie davvero a tutti grazie Bianca grazie Guido grazie Rossella grazie di cuore grazie a tutti